due ore che l'aspetto quando arrivo era uguale? eh si no? del suo nome? prima volta da noi? come mai hai scelto noi? sono domande che devo fare ok, hai visto le review su google? ok, faccio vedere la situazione sì sono io che le farò sì, Veronica no, Stefania non c'è ok, farò questo sforzo superciglia, effettivamente bruttina eh? devo essere obiettiva? dai prego, iniziamo un bosco, un bosco abbiamo ah, le do fastidio la cicca? non posso, l'altro dottore devo mangiare la cicca per allevare lo stress che mi provocano cicciccic i clienti che fanno tante richieste non dalle richieste come le 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 sto facendo male, andiamo di lametta andiamo di lametta, no 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 no, se viene qua, io sono la professionista solo in mezzo, solo in mezzo, è andato se non viene più mi fa solo un piacere un attimo anche le pettine questo, questo abbiamo, si è rotto il pettinino professionale mi dispiace molto molto meglio, molto molto meglio quasi finito quasi finito che noia, che sono no guardi non mi dica cosa ho da fare oggi perché io non ho tempo di sentire la cosa degli altri, già ho la testa piena di pensieri non sono una sua amica io eh allora mi paga certo si guardi si guardi lo specchio vedi? un solo simpatica non mi raccavo ok, ancora un poco sotto non mi raccavo 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 ma guardi voglio dire che ci siamo vi giù bene sono 37 euro 37 euro ho appena detto che si è trovata bene si fosse trovata male erano 15 ma si è trovata bene grazie certamente buona giornata buona giornata buona giornata oddio ragazzi i ruoli antipatici non so se mi vengono bene fatemelo sapere nei commenti oddio vi mando un bacio al prossimo video buonanotte vi mando un po' 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.